Ma chi sarai, ma chi sarai, per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, spiegando per un sì, dimmi come mai, ma chi sarai, per fare questo a me, con chi viene a rispettarti, ad aspettare te, dimmi come mai, ma chi sarai, per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, spiegando per un sì.